Intanto rispettiamo la decisione che hanno preso CGL e Will, perché noi abbiamo un'altra strategia, un'altra strada che vogliamo seguire. Siamo profondamente rammaricati che il governo Renzi si muova da solo e riteniamo invece che con un accordo più ampio con le forze sociali e le forze economiche si potrebbe facilitare i cambiamenti che nel Paese c'è bisogno e per di più c'è la necessità di tener conto che la crisi crea situazioni di difficoltà. Bisogna intervenire sapendo fare scelte che aiutino quelli che sono in maggiore difficoltà e in questo caso su molti provvedimenti la scura che ha assunto il governo non va nella giusta direzione. E' sbagliato dunque pensare o dire che potrebbe esserci una rottura tra voi e la CGL e la Will? La rottura non è sui contenuti, sulle analisi, sui contenuti siamo d'accordo, al di là del problema del Job Act in cui l'articolo 18 è diventato un tema più ideologico che reale. E sulla forma che non siete d'accordo? Noi non siamo d'accordo sul modo di muoversi, cioè qui non ci serve un sindaclato conflittuale antagonista, noi non siamo d'accordo minimamente con le posizioni di Landini. Intanto è stata approvata una legge cornice che ha recepito alcune nostre richieste di modifica, non tutte chiaramente, ma alcune le ha recepite e questo è già un fatto importante. Avremo l'incontro con Poletti, col Ministro, per fare i decreti attuativi e nell'occasione dei decreti attuativi noi abbiamo intenzione di introdurre ulteriori elementi di modifica. Costruire un sistema a tutele e crescenti certamente migliora le condizioni di questi lavoratori che vengono assunti, per di più se ci si aggiunge anche lo sgravio contributivo, le imprese sono invogliate e assumono un contratto a tempo indeterminato. Quali iniziative pensate di poter portare avanti? Noi dopo l'iniziativa che abbiamo fatto abbiamo intenzione di muoverci, speriamo, unitariamente. A gennaio presenteremo ufficialmente una proposta di legge di iniziativa popolare sulla riforma del sistema fiscale. Faremo un'ulteriore iniziativa forte perché il sistema pensionistico così com'è non va bene. Noi dobbiamo introdurre flessibilità nel sistema delle uscite e questo è un argomento che vogliamo lo stesso farne oggetto, se non sarà discusso col governo, di iniziativa popolare affinché alcuni elementi di equità che nella crisi sono resi, sono evidenziati in modo delicato, vengono riportati all'interno di una crisi che rimane profonda e che chiaramente per uscirne richiede anche un impegno della comunità europea.